Albergatori ma anche bagnini, commercianti, agenzie di viaggio. Insomma la pesaro del turismo ascoltata dalla politica locale. All'hotel Alexander Museum Palace di Viale Trieste l'assemblea dell'APA Associazione Pesarese Albergatori ha acceso il megafono sullo stato di sofferenza di tutti i comparti del settore turistico pesarese che ha appena mandato in archivio una stagione estiva con consistenti cali del fatturato, con hotel a rischio chiusura e con prospettive molto nebulose per l'anno 2021. Siamo qua ad una riunione importantissima dell'Associazione Albergatori, forse una delle più importanti nella storia degli albergatori proprio per il momento particolare che il turismo sta vivendo. A questa riunione abbiamo invitato anche i rappresentanti delle altre categorie, bagnini, ristoratori, commercianti, guidi turistica, agenzie viaggi perché riteniamo che siamo il settore a partire dagli alberghi il più colpito. Al comune cosa chiediamo? Chiediamo di essere vicini alle nostre stanze, di concertare una serie di politiche anche tarifarie con noi, soprattutto riferite ai tributi, chiediamo di fare degli interventi anche per il prossimo anno sul lungomare di arredo urbano e chiediamo che la tassa di soggiorno venga esclusivamente spesa per il turismo. Oggi alla nostra assemblea, in via del tutto eccezionale, sono presenti tutte le forze politiche e tutte le forze istituzionali di minoranza e di maggioranza, sia della regione sia del comune di Pesolo, perché riteniamo che una battaglia come questa e un superamento di una crisi come questa debba coinvolgere minoranza e maggioranza e quindi tutti devono lavorare per il bene della città. Ricordo che gli alberghi sono, diciamo un po', è la categoria capofila del turismo, perché ovviamente se gli alberghi sono pieni lavorano i bagnini, lavorano le guide turistiche, lavorano i bus operator, quindi lavorano i commercianti e quindi in questo momento è importantissimo che il nostro settore venga aiutato. L'altro appello che facciamo ai politici è che non vengono dati finanziamenti a pioggia, ma vengono destinati esclusivamente alle categorie in difficoltà. Il comune di Pesaro, attraverso il vice sindaco Daniele Vimini, ha messo in tavola progetti che prevedono investimenti a sostegno del comparto, a cominciare dalla riqualificazione della zona di Levante, animatamente richiesta dagli albergatori. Altro tema caldo è stato la tassa di soggiorno. Il 5% dei fondi derivati da questo tributo saranno investiti sulla promozione del territorio, con una percentuale che sarà resa retroattiva dai ricavi del 2019 e confermata anche per i progetti del 2021.